Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video andiamo a fare lo slime melmoso. Allora, come avete letto dal titolo, si chiama slime melmoso. Viscido melmoso... diciamo così. Andremo a fare questo slime. Allora, come vedete, anzi, prima cosa, dovete prendere una ciotolina. Io ho preso quello del farmareggio. Poi, sul mio canale c'è scritto Miriam Tama, mentre io ho il mio nome, non si chiama così. Miriam Tama è il nome di mia mamma. Perché io non ho ancora il telefono, perché... Ah, comunque, il 27 giugno è il mio compleanno. Mettete like a tutti i video, soprattutto quello che farò il 27 giugno. Allora, andiamo avanti. Se volete... Ah, allora, devo salutare Riccardo, poi Giulia e Gaia, le mie cugine, Riccardo il mio amico. Allora, per chi non lo sapesse, oggi è... Aspettate un attimo. Scusate. Oggi è il 17 giugno. Mercoledì 17 giugno, no? Il questo 17 giugno, c'è la partita Juve-Napoli. Per chi tifo a Napoli o a Juve, vi consiglio di guardarla. Io tifo per la Juve, perché, come vedete, qua dietro ho le cose della Juve. Vedete? Tutte qui. Questa è la foto con Ronaldo. Ecco. Ecco, ragazzi. Io tifo a Juve. Però Ronaldo ancora non mi piace tanto, perché praticamente non segna ancora tanto bene. Comunque, andiamo avanti. Facete finta che questa cosa non l'abbiamo detta, lasciate like, se volete un altro video. E... boh. Iscrivetevi qua sotto al canale e attivate questo per la campanella. Allora, vi serve un barattolo di parma legge. Poi, magari una ciotola, un bicchierino per i caffè. Poi, dovete prendere un goccino d'acqua e tanto sapone per il detersivo, tanto, tanto. Se volete verde, se l'avete giallo, io, secondo me, è più bello verde. Allora, con l'acqua, io vi dico un consiglio, no? Quando viene gelatinoso, dovete metterlo in frigo per due ore. Mettendo una pellicola sopra, tipo carta stagnola, sì, carta stagnola. Poi, questo è il mio consiglio. Poi, se volete fare come volete voi, a me la mette. Cioè, scusate, mi interessa. Mi interessa un sacco, però, non so se vostra mamma ve la dà. A me me la dà, perché io praticamente ho la mia stanza. Mi sa che sto rimando mia sorella. No. Ok. Per chi non lo sapesse, andate a guardare gli altri video. Uno dei Lego e uno delle streghe. Anche se siamo in estate. Io vi dico, la mia manica è lunga, perché fuori sta diluviando. Andiamo avanti. Poi, dovete prendere la farina. Metterla tanta così. Non so neanche a questa cosa se vostra mamma ve la dà. Vabbè, anche la carta stagnola potete non metterla, però, io ve lo consiglio. E poi, mescolate, 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 mescolate. Dovete non far vedere la farina. A me si vede ancora. Quindi dobbiamo mescolare, mescolare, mescolare. Io ce l'ho qua. Vedete? Ecco. Ve lo faccio subito vedere. Vedete? Viene così. Puoi mettere dei brillantini blu. Non so neanche questi se vostra mamma ce l'ha. Ve li date o ce l'avete. Allora. Per chi non lo sapesse, andate a dire a tutti i vostri amici di guardare il mio video. Mettere like. E poi. Andiamo avanti. Prendere un cucchiaino di plastica, se no quello di metallo a me mi è successo mille volte. O potete prendere anche di metallo, però basta che sia quello lungo. Perché se no, se non è tanto lungo, si può scivolare dentro vostra mamma. E niente. Qua finiamo il video. Anzi, ancora una cosa. Mettete like. Mezzo 7 giugno, il mio compleanno, video dell'inauguramento del mio giardino, finito. Dove non lo sapevate, è tutto. Abbiamo messo il prato. Anzi no, non abbiamo messo niente. Comunque, non abbiamo messo niente. Abbiamo solo un giardino. Il prato, poi si vede. Non l'abbiamo ancora messo. E se volete vedere altri video, ve lo faccio vedere soltanto se mettete like. Dobbiamo arrivare a 20 like. E... 30 iscritti. E vi faccio vedere un video dei miei spiagni. Ciao, ciao, ciao. E al prossimo video. Ciao, ciao.